Raimondo mi fa una domanda interessante, ETF a gestione attiva? Diciamo che in linea di massima sono da evitare perché intanto sono molto più costosi degli ETF normali e poi hanno delle caratteristiche particolari, ad esempio sono poco liquide e hanno delle strategie che sono molto complesse e quindi fanno figo, però non è detto che funzionino. Ad esempio avrai delle ETF a gestione attiva che seguono un approccio value, quindi vanno a individuare titoli sottovalutati piuttosto che quelli che seguono altri algoritmi, va tutto bene, però diciamo che oltretutto manca anche uno storico per valutare queste strategie. Il consiglio che ti do Raimondo e che do anche a te che mi stai ascoltando in questo istante è quello di creare tu una strategia, ci sono diversi modi, quello più semplice è quello di utilizzare l'algoritmo che troverai nelle bucle investimento perfetto, che è un algoritmo semplice ma molto potente perché semplicità non vuol dire banalità a tutt'altro, oppure nel corso investment training insomma tu hai diverse risorse di formazione sul sito segretibancari.com che ti insegneranno come impostare una strategia, ma farlo con ingredienti semplici, quindi con ETF tradizionali. Pasquale è interessato al recupero delle minusvalenze, con le obbligazioni non puoi recuperare le minusvalenze, o meglio puoi recuperarle ma solo con il guadagno in conto capitale e non con le cedole. Con i certificati sì, però attenzione perché se i certificati pagano delle cedole e queste cedole sono sicure, quindi non sono in qualche modo condizionate al fatto che il certificato rimborsi in maniera anticipata o via dicendo, sono cedole che assomigliano degli interessi, quindi hanno delle date di scadenza e degli importi certi, non puoi compensarle perché sono redditi di capitale e non redditi diversi. Se invece il certificato è un certificato di investimento diciamo così semplice, oppure paga delle cedole ma solo se accadono determinati eventi, in questo caso puoi utilizzarli. Matteo è preoccupato per il conto titoli, mi chiede se la banca va in default, che cosa succede al conto titoli, in realtà nulla. Matteo tu immagina questo, il mio vicino di casa mi presta la bicicletta, io ce l'ho in garage, fallisco e mi portano via la macchina. La bicicletta del mio vicino no, perché? Perché non è mia. Tecnicamente i titoli in dossier sono beni di terzi in deposito, quindi non sono di proprietà della banca e non possono essere coinvolti in caso di default. Alessandro, contabili per le operazioni fatte con banca online? Sicuramente sì, la legge lo prevede, la banca online deve mettere a disposizione del cliente su supporto duraturo le contabili delle operazioni fatte. Tipicamente un file pdf, cerca, chiedi in banca, devono farlo, lo fanno tutti. Sono file in pdf semplicemente che tu puoi stampare e conservare, che sono col logo della banca, esattamente come quelli che ricevi a casa quando operi con una banca tradizionale. Sergio, che cosa puoi fare? Beh, essenzialmente puoi o cambiare banca, ad esempio, oppure aprire un altro conto. Ci sono delle banche online come i VBank che ti permettono di sottoscrivere fondi, quasi tutti, a costo zero. Quindi puoi tranquillamente utilizzare i VBank insieme con il conto corrente tradizionale. Semplicemente non comprerai i fondi che ti interessano con la banca sotto casa, ma la comprerai con i VBank. Valerio è un affisionados delle azioni italiane e mi chiede appunto se è giusto acquistare Eni, Enel, eccetera. Secondo me è meglio di no, perché per una buona diversificazione non basta mai comprare un solo titolo. Ce ne vanno almeno 30. E tanto vale a quel punto comprare un etf. C'è un etf sulla borsa italiana che ti permette di replicare l'indice Futsimib che ha 40 titoli. Quindi molto più semplice investire su un paniere di titoli che non comprare 3 o 4, che magari poi sono quelle che non vanno così bene. Con questo io ho concluso, ti ringrazio per avermi fatto queste domande, quindi ringrazio Pasquale, Valerio, tutte le persone che sono intervenute e te che in questo momento mi stai ascoltando e ti do appuntamento sul sito segretibancari.com per te che vuoi imparare a investire in modo consapevole, semplice ed indipendente. Un abbraccio da Giacomo e a presto. Un abbraccio da Giacomo e a presto.